Allora, intanto una breve presentazione di questo comitato, non so se esistono altre esperienze in giro per l'Italia, perché noi in pratica siamo un comitato, un gruppo di lavoratori di tre aziende del Comune di Roma, Farmagap, Ama e Atac, sarebbero trasporti, rifiuti socio-sanitarie, aziende socio-sanitarie, che in pratica abbiamo pensato di costituire un comitato per il sì, rivolto soprattutto ai nostri colleghi. Il ragionamento è stato abbastanza semplice, oltre a essere i cittadini siamo anche i lavoratori e i progetti di privatizzazione non solo hanno colpito gli utenti perché ci sono stati peggioramenti del servizio, ma hanno colpito anche i lavoratori stessi in termini di precarizzazione del lavoro, attacco al salario, esternalizzazione e così via. Inoltre vedevamo nella possibilità del referendum uno strumento concreto per bloccare i processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali, perché infatti la Giunta Alemanno, in pratica per dare seguito al decreto Ronchi, aveva preparato una delibera e in questa delibera si prevedeva l'ingresso dei privati nelle aziende dell'AMA, dell'ATAC, ACEA già è privatizzata, quindi non era inserita perché già è 51% presenza pubblica, 49% privata e poi in questa delibera ci hanno inserite anche altre aziende che non erano previste del decreto Ronchi come la mia azienda che è la farmaca, che è un'azienda speciale e quindi avevano fatto una delibera che prevedeva la privatizzazione del servizio di queste aziende con l'ingresso del 40% come prevedeva il decreto. Noi siamo contenti perché in pratica non solo abbiamo vinto sulla questione dell'acqua, ma abbiamo vinto anche sulla battaglia contro la privatizzazione di queste aziende perché subito dopo Alemanno ha dovuto dire che appunto quella delibera in pratica era saltata perché grazie al quesito referendario anche la privatizzazione di queste aziende è venuta a meno. Per cui io sono contento due volte perché sia come cittadino perché l'acqua può diventare pubblica, anzi deve diventare pubblica e sono contento.